Dai, non ti preoccupare, che tanto mi metto su YouTube, eh, non ti preoccupare, guarda, non ti preoccupare Non c'è problema Ecco a voi Giannicola, lo smerigliatore dei asti Ti sento su Facebook come smerigliatore di assi Nooo, dove tiślę su Facebook come smerigliatore? Non ti preoccupare, come mi entrazi in albergo all'altro Ok, ma il bacio non votate, no capito, finisce così Vabbè dai, finisce con la pelata di Maurizio